Buonasera, buonasera tutti, stiamo a capire tutti il lostador del volanzo, una bellissima giornata, l'herività di un sofà che ci riscaldano da un po' di 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 un po'. E arrivano le stagliette persone, questo è la liga del palaccio, la luce non c'è da un po' di 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 un po'. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti